Gela che non scena in campo da ben due settimane, è stato per voi difficile adesso ricominciare? Ma è sempre difficile ricominciare dopo tanto tempo che non giochi. Noi ci siamo preparati bene, credo che questa partita è importantissima, è determinante per il nostro proseguo, vogliamo fare un risultato positivo e riprendere il nostro cammino. Perché lei sostiene che è determinante? Determinante perché loro fanno la corsa su di noi per rientrare nel lotto delle pretendenti per fare i play-off e noi li vogliamo mantenere a distanza, credo che sia un avversario difficile, un avversario che è ambizioso e per questo dico che è determinante, facendo un buon risultato credo che loro rimarranno a debito a distanza. Parlando un attimo della partita con la Sarsala, è destino che questa gara a gennaio non debba giocarsi? Sì, sì, siamo stati d'accordo che deve essere per San Valentino, così ci abbracciamo tutti. No, scherzi, credo che lì sulla Sarsala il problema esiste, sperando che il giorno 1, che è la data che è stata stabilita, ci siano le condizioni per disputare questa gara e così ci togliamo questo dente. Credo che anche questa partita, recuperando la gara, credo che ci può dare un'altra spinta verso l'alto. E poi è un vero e proprio tour de force perché voi domenica giocherete a Santa Maria Capovetera, ritornerete a Gela, vi allenerete a Gela e poi ripartirete per martedì per Sarsala. Sì, sì, ci siamo abituati, io credo che abbiamo un gruppo molto compatto, un gruppo numericamente per disputare tutte e tre le gare perché poi viene il Gragnano, partite molto difficili, però credo che il gruppo è pronto per sostenere questi tre turni in una settimana. Mister, ma se all'inizio del campionato le avessero detto che il Gela, alla fine del giro d'andata, dunque con la prima giornata di ritorno, si sarebbe attestata in piena zona playoff, lei ci farebbe creduto? Per come siamo partiti no, però io credo che il lavoro paga sempre, la combattezza di un gruppo paga sempre. Io dico solo che questo gruppo ha veramente ancora margine di miglioramento, io credo che lavorando con il lavoro quotidiano sicuramente si prendono sempre grosse soddisfazioni. Siamo ambiziosi, io credo che veramente all'inizio era impensabile, ma oggi noi abbiamo dimostrato che possiamo stare e possiamo lottare contro chiunque, sempre a testa alta e con sicuramente questo gruppo ha anche tantissime qualità che deve ancora esprimere.